Carl Brave, Fit Max Gazze composto in radio da venerdì 16 novembre e il singolo over rappresentato in anteprima a X Factor nella puntata di giovedì 15 novembre dalle 21,15 in poi, su Sky 1 canale 108 e su Digitale Terrestre al canale 311 o 11 Posso è il nuovo singolo di Carl Brave impreziosito dalla speciale partecipazione di Max Gazze. Il brano, in radio da venerdì 16 novembre è un punto d'incontro tra due mondi, un ponte che collega idealmente la scuola romana di due generazioni. Un crescendo ritmico impalzante su cui la scrittura di Brave si srotola con vivace spontaneità. Sono fiero di aver lavorato con Max Gazze, dice Carlo, un artista che ha fatto la storia della musica italiana. Posso anticipa l'uscita di Notti Brave After sequel in 7 tracce di Notti Brave, album certificato oro entrato direttamente al primo posto nella classifica degli album più venduti, restandoci per due settimane. Notti Brave After, in uscita il 30 novembre, contiene 7 tracce che arricchisce ed evolve la grande ispirazione del produttore romano che è pronto a centrare ancora una volta il bersaglio dopo il successo estivo di fotografia, singolo di debutto di Carl Brave interpretato insieme a Fabri Fibra e Francesca Michelin. Il brano ha ottenuto la certificazione doppio platino, ha raggiunto oltre 33 milioni di stream su Spotify, la top 10 in iTunes e la top 10 nella classifica Airplay e ha totalizzato oltre 45 milioni di visualizzazioni su YouTube. Guarda tutti i video di X Factor sul sito ufficiale. Guarda tutti i video di X Factor sul sito.